Da un lato investitori e risparmiatori, dall'altro chi avrebbe dovuto controllare ed evidentemente non l'ha fatto o l'ha fatto con molta superficialità, leggi Banca Italia e revisori dei conti, nel mezzo il dibattito politico interno al nostro paese sul decreto salvabanche ed il braccio di ferro con Bruxelles per le misure di rimborso che il ministro delle finanze Padoan ha definito umanitarie. E' un puzzle complesso quello determinatosi dopo il salvataggio dei quattro istituti di credito italiani, tra cui l'Abruzzese e Carichieti. Fino ad ora chi ci ha rimesso è stato, chi avendo comprato obbligazioni subordinate si è trovato oggi con un mucchio di carta straccia in mano. Però ci sono da fare dei distinguo, tanti hanno voluto investire a tratti da tassi di interesse fuori mercato, speculando ed accettando il rischio compensato dall'alto guadagno. Altri, invece, si sono ritrovati con obbligazioni subordinate inconsapevolmente e magari ci avevano messo tutti i propri risparmi. Ecco, questo è lo spartiacque, non si può certo pensare di creare il precedente, per cui chi specula ha poi il paracadute dello Stato, cioè dei contribuenti. Però, altresì, bisogna tutelare chi è stato truffato. In questo senso dovrebbe essere letta la richiesta mossa dall'Associazione Vittime del Salvabanche al Presidente del Consiglio Renzi, di immediata correzione del decreto per il salvataggio delle quattro banche commissariate e la riammissione di tutti i titoli coinvolti alla libera negoziazione sui mercati. Intanto, Unicredit fa sapere di non essere interessata ad acquistare né bancamarche né tantomeno Etruria, Carife e Carichieti, per bocca del suo amministratore delegato Federico Ghizzoni. Tutto fermo? Certo che no. Il braccio di ferro, come detto, si è spostato in Europa, con il governo italiano che spinge per una soluzione che tamponi il problema e l'Europa, che attraverso le parole del commissario Il dice, è il governo italiano a essere alla guida del processo di salvataggio delle quattro banche e ha responsabilità per questo. Il governo italiano, continua poi il commissario, ha discusso a lungo con la Commissione, in particolare con la Direzione Generale Concorrenza, che ha ritenuto che le misure prese erano compatibili con la legislazione dell'Unione Europea sui salvataggi bancari. Dichiarazioni che suonano come un no alle richieste italiane, con buona pace degli obbligazionisti.